Ben trovati. Questo è il tradizionale appuntamento che ormai da un po' di tempo ci consente, in chiusura di anno, di tirare un po' il bilancio dell'attività svolta dalla provincia di Arezzo e naturalmente lo facciamo con il presidente della provincia, Roberto Vasai. Questo 2011 è stato un anno estremamente complesso, complicato potremmo dire, particolarmente complicato per il mondo delle autonomie locali e direi in particolar modo per quello delle province. Credo che se dovessimo dare un titolo a questo nostro appuntamento potrebbe essere nonostante tutto, perché nonostante i tagli arrivati dalle manovre fatte dal precedente governo, nonostante i tagli arrivati anche dal livello regionale, nonostante i limiti ferrei fino al limite dell'ingessamento quasi degli investimenti derivanti dal patto di stabilità, nonostante la situazione a livello nazionale e internazionale purtroppo in costante peggioramento, nonostante tutto, presidente, la provincia, e lo dimostreremo poi raccontando, un anno di attività, ha continuato a svolgere appieno il suo ruolo. Sì, devo dire, abbiamo iniziato l'anno ed eravamo una barca in un mare in tempesta. La prima volta abbiamo approvato, credo dopo tanti anni, abbiamo approvato il bilancio a fine marzo, non accadeva da qualche decennio, 7 milioni in meno di risorse. All'inizio non è stato facile prevedere il futuro e i mesi successivi. Devo dire, abbiamo inserito nell'amministrazione della provincia una cura che io ho chiamato una cura da cavallo, nel senso, ci siamo resi conto che dovevamo stringere i denti, li abbiamo stretti, insieme ai denti abbiamo stretto anche i cordoni della corsa, perché dentro c'era ben poco. E devo dire, grazie al contributo del personale della provincia, io mi sento di dirlo, a partire dai dirigenti, dal direttore generale, dal segretario, io ho visto un gioco di squadra straordinario e questo ci ha permesso di arrivare in fondo alla fine dell'anno con una certa serenità, anche perché abbiamo fatto degli aggiustamenti importanti alla spesa, abbiamo cercato di contrarre il più possibile i costi del nostro ente e questo l'abbiamo fatto anche grazie ad un lavoro e a un gioco di squadra che è stato straordinario, io della verità non me l'aspettavo che da parte dei quasi 500 dipendenti della provincia ci fosse questo tipo di atteggiamento, che io credo sia importante, perché in un momento in cui il pubblico è stato, perlomeno nel recente passato sotto un attacco forte, per me non sempre meritato, tutt'altro, insomma andare in giro per verificare lavori eccetera, io ho trovato ad esempio nel mondo dei cantonieri una grande voglia di rimboccarsi ancora di più le maniche per aiutare la provincia a uscire dallo stallo e dalla crisi. Vogliamo dare anche qualche numero che secondo me è interessante, o comunque dire alcune cose, come sottolineava poco fa il Presidente, la provincia si è trovata a dover fare conti con 7 milioni in meno nel proprio bilancio all'improvviso, nel giro di alcuni mesi senza nessun preavviso, è stata capace di reagire, in un anno i risparmi sono stati notevoli, si sono fatte operazioni anche dolorose per certi versi, però la provincia di Arezzo arriva alla fine di questo 2011 nel piano rispetto del patto di stabilità con credo la soddisfazione di essere tra le poche in Italia quasi in pari con i pagamenti alle aziende che tanto hanno bisogno. Si, credo se arrivi a ottobre. Che è un dato significativo, sentiamo parlare in questi giorni di pagamenti a 400 giorni da parte di alcuni enti pubblici con grandi sofferenze per le aziende e poi racconteremo anche cosa è stato fatto. Un ultimo dato, si è parlato molto di costi della politica in questi tempi e si è abbinato credo in maniera quanto mai improvvida insomma, quello che è la situazione a livello locale con quella nazionale e da un conto fatto molto ragionieristicamente è emerso che il costo per ogni abitante aretino per quanto riguarda il mantenimento degli organi della provincia di Arezzo, quindi Presidente, Giunta, Consiglio e strutture diciamo loro necessarie, è di 1,50 euro all'anno. Il più basso in Toscana è uno dei più bassi in Italia. Credo che sia giusto anche sottolineare questo, no? Sì, noi purtroppo viviamo in un periodo di grande demagogia in cui chi la spara più grossa è quello che è ascoltato. Abbiamo avuto purtroppo una campagna di stampa orchestrata da gruppi editoriali importanti che ora stanno riflettendo però perché quando iniziano a uscire numeri vediamo che la realtà non può essere forzata, i numeri sono numeri, insomma pensare, insomma ci doveva essere un agnello sacrificale e questo agnello sacrificale dei costi della politica è stato visto in questi ultimi tempi nella provincia e nei costi che questa avrebbe avuto poi piano piano cominciano a uscire i numeri e dalle decine di miliardi si arriva a qualche decina di milioni. Questo è veramente ridicolo, però fa parte oramai di un meccanismo in cui bisogna sparare, bisogna trovare qualche capo espiatorio. In questo caso è stata la provincia e i suoi organi. I suoi organi, noi abbiamo fatto anche il conto che tempo fa, l'abbiamo pubblicato, oltre all'euro e 50 che diceva prima, che è il costo che si viene a cadere sui nostri cittadini, noi costiamo quanto un deputato o un senatore, con annessi e connessi, con tutti i benefit che questi hanno. Io credo che il ruolo e la funzione della provincia, insomma, va ben oltre il ruolo e la funzione anche se si vuole dei mille deputati e degli oltre... O almeno di una parte, insomma, mettiamola così. Purtroppo, però, questo è il sistema, questo è il meccanismo in cui volevo dire. E ora si sta riflettendo, perché poi ci siamo accorti che, insomma, la realtà è ben diversa. I numeri non è che sono questi. E allora, io direi a questo punto, cominciamo a raccontare le cose fatte, perché al di là delle opinioni libere di ognuno rispetto a quella che è l'utilità delle province, io aggiungerei libere e informate, se possibile, perché le opinioni, se non sono, come dire, sostenute da una base di informazione, poi rischiano di essere purtroppo distorte. Ma diamo, diciamo, un po' di cose fatte. Il 2011 è stato un anno nel quale sembrava quasi, insomma, che inizialmente, almeno, la crisi potesse aver avuto qualche forma di soluzione, invece poi si è capito subito che era solo un'illusione e la provincia ha continuato nella situazione di anticrisi. Per esempio, già a gennaio, 50 mila euro investiti per consentire di anticipare ai cassi integrati il compenso che, pur ridotto, spesso l'Inps eroga solo dopo mesi. Sì, questo è uno dei tanti contributi che la provincia ha messo in essere per cercare di alleviare, diciamo, le difficoltà che la crisi ha fatto calare sui nostri cittadini. Ma non solo quello, l'ufficio crisi, abbiamo messo in moto tutta una serie di meccanismi con la Camera di Commercio, a partire dal credito alle imprese, attraverso i consorsi fidi. Insomma, abbiamo cercato, nei limiti delle nostre disponibilità, di dare un contributo per cercare di alleviare le pene a tantissima gente, a tantissime persone che sono in cassa integrazione, che sono in condizioni familiari di estrema difficoltà. Ricordiamo anche il microcredito. Questo è il microcredito. Insomma, ci sono tanti meccanismi che abbiamo messi in piedi. E poi quello che effettivamente è positivo, il vedere che i nostri uffici per l'impiego, che sono uffici pubblici, sono stati anche visitati da tantissimi, da migliaia e migliaia di persone che hanno ricevuto delle risposte. Perlomeno hanno attivato come minimo tre, quattro azioni che gli interessava. Questo dimostra l'importanza anche del rapporto che si è instaurato fra questi centri e il mondo esterno e i nostri concittadini. E questo è estremamente positivo. Però io, per quanto riguarda il discorso delle opere, noi siamo partiti all'inizio dell'anno con queste grandi difficoltà legate a finanziamenti che mancavano, a risorse che mancavano, noi abbiamo avuto come stella porare di riferimento il completamento delle opere. Cioè in una situazione di estrema difficoltà non si poteva andare a programmare nuove opere, nuovi interventi. Quello che però ci siamo prefissi fin dall'inizio è di portare a compimento, a termine, le opere iniziate, programmate, che avevano già un finanziamento, perché anche queste rischiavano di saltare. Ma siccome noi si vive in un'area del Paese, in una zona del Paese, dove le opere, i nostri enti pubblici le portano a termine, non le lasciano in sospeso, come vediamo dalla televisione, vediamo dai servizi che spesso programmi importanti ci fanno vedere. Insomma, partendo dal presupporto, che non era facile nemmeno mantenere, diciamo sì, in piedi, le opere già programmate e già finanziate, devo dire che con grandi sacrifici e grande dinamismo anche ce l'abbiamo fatta perlomeno quest'anno, le opere stanno andando avanti, poi magari entreremo in merito ad alcune, stanno andando avanti, il programma che avevamo stabilito, che è un programma forte, abbastanza elevato, sta andando avanti e pensiamo alcune opere importanti troveranno sicuramente compimento già nel 2012.